Musica Benvenuti gentili telespettatori ad una nuova edizione del nostro telegiornale Vero fine settimana da Bollino Rosso sulle strade marchigiane e soprattutto lungo la A14 in particolare in direzione sud è annunciato nel weekend il traffico delle grandi occasioni almeno nelle ore di punte non sono escluse code in particolare nel tristemente famoso tratto da Porto Santerpidio a San Benedetto del Tronto con le sole due corsie per senso di marcia d'altronde stiamo entrando nel periodo davvero consacrato alle vacanze che ci condurrà al ferragosto in più il caldo torrido anche se nella nostra regione da domenica le temperature vengono date almeno in lieve diminuzione Cambiamo argomento è stato approvato il progetto definitivo per la messa in sicurezza permanente della vasca di prima pioggia dell'ex SGL Carbon ad Ascoli Piceno i dettagli in questa intervista di Mario Larocca Approvato il progetto di bonifica della zona Carbon quindi non è ancora tutto pronto sindaco però è un passaggio importante per ridare anche alla città una zona che per anni è stata motivo e frutto anche di lavoro per tanti ascolani però da anni è troppo ferma Sì la conferenza di servizi di questa mattina dà secondo noi grande speranza agli ascolani oggi in conferenza di servizi abbiamo approvato il progetto definitivo della messa in sicurezza permanente della vasca di prima pioggia all'interno del sito di Restart l'ex SGL Carbon quindi sono molto contento perché in realtà dopo il mio insediamento nel 2019 subito abbiamo fatto un incontro col commissario ad acta il generale Giuseppe Vadalà che voglio ringraziare anche per la sua grande velocità che ha dimostrato così oggi in conferenze di servizi Noi in Italia abbiamo 35.000 siti da bonificare 17.000 fermi senza nessun progetto quindi con lui siamo riusciti in pochi anni ad avere un progetto definitivo che abbiamo approvato oggi in conferenza di servizi con la partecipazione della provincia dell'ARPAM della regione quindi oggi abbiamo sancito un passaggio importante quindi ci sarà come ha detto il generale Vadalà in autunno la gara per i lavori quindi per partire poi con la bonifica della vasca di prima pioggia quindi avremo la tutela ambientale delle acque un aspetto di tutela collinare e anche l'aspetto ambientale quindi all'interno del sito di Restart vogliamo in prospettiva costruire un nuovo progetto di valenza pubblica quindi avvieremo subito un tavolo per costruire un nuovo protocollo per velocizzare la bonifica di tutta l'area di 27 ettari e già costruire un progetto partecipato con la città per disegnare lì un grande parco verde delle attrezzature sportive e quindi a beneficio di tutta la città Una busta da lettera anonima contenente due bustine di veleno per topi è stata indirizzata al commissario della Fondazione Città di Senigallia che ha finalità pubbliche per servizi socioassistenziali l'avvocato Corrado Canafoglia a comunicarle la stessa realtà socioassistenziale senigalliese che rende noto come almeno due dipendenti dell'ente di via del seminario siano venuti a contatto con la lettera contenente la sostanza topicida fortunatamente senza riportare conseguenze all'interno del plico due bustine di veleno per topi rotte in modo che la sostanza potesse uscire e contaminare la busta presentata denuncia contro i gnoti presso la locale caserma dei Carabinieri la stessa associazione aveva ricevuto nel settembre scorso una lettera minatoria Volanti sono intervenute nei pressi dello stadio d'orico di Ancona dove era stato segnalato un furto con destrezza in danno di un'anziana Giunti sul posto i poliziotti prendevano contatti con la vittima un'anconetana di 85 anni riferiva di essere stata avvicinata poco prima da un trentenne che l'aveva appositamente sporcato i capelli ed il braccio con una sostanza di colore marrone scuro in modo da ingenerare nella signora la convinzione di essere stata colpita da escrementi di uccelli L'uomo immediatamente si offriva di aiutarla con alcuni fazzoletti e non appena la donna si sfilava dal braccio l'orologio ed un bracciale per pulirli il predetto con una manovra fulminea riusciva a sottrarglieli dandosi poi alla fuga verso il viale della vittoria la presente si legge in una nota è solo l'ennesima modalità posta in essere da vigliacchi criminali per approfittarsi di persone anziane per carpirne la buona fede e farne oggetto di reato Niente lavoro in nero al Jova Beach Party né greenwashing in diretta Instagram da Lido Di Fermo Giovanotti respinge accuse e sospetti dopo il blitz del 3 agosto dell'ispettorato del lavoro e replica anche a chi punta il dito sui rischi per l'ecosistema il lavoro nero per me è una piaga enorme una cosa molto seria sottolinea accanto a Maurizio Salvadori della Trident e parla di killeraggio da parte di chi ha diffuso notizie nella serata di ieri per non darci tempo di replicare e poi aggiunge il Jova Beach non è un progetto greenwash ma un lavoro fatto bene e parliamo ora di turismo con una delle nostre eccellenze la Galleria Nazionale di Urbino al massimo del suo splendore e vera attrattiva per i visitatori l'intervista di Lino Balestra Direttore, secondo piano che l'abbiamo visto spoglio adesso lo vediamo pieno di capolavori immagino per lei sia una grande soddisfazione vederlo così Sì, devo dire che questo secondo piano l'abbiamo visto crescere nel corso di questi due anni in cui sono arrivato a Urbino a novembre saranno quindi due anni dell'inizio del mio mandato e io sono molto felice del progresso dei lavori che ha riconquistato pienamente tutti gli spazi di Palazzo Ducale con una nuova completa accessibilità con la costruzione di questo famoso ascensore che ci ha occupato tanto tempo ma che c'è e che è molto usato e che ha permesso quindi di creare una vera pinacoteca aggiornata ai criteri museografici e museologici più moderni e contemporanei che racconta in maniera diffusa e capillare la storia dell'arte nella regione quindi in tutte le marche quindi dal Ducato alle Marche Basse la storia dell'arte fra 500 e 700 è un salto in avanti nella cronologia del museo non indifferente perché prima in qualche modo ci fermavamo in maniera così diffusa a Barocci invece adesso siamo andati molto avanti ed è una cosa bella perché vuol dire dare al museo veramente questo ruolo che porta nel suo nome cioè di essere una galleria nazionale ma nello stesso momento anche di raccontare la storia dell'arte in questa regione lo abbiamo visto crescere recuperando anche spazi che prima non erano destinati al museo come le sale nelle quali ci troviamo adesso che erano una scuola negli anni 70 poi erano stati lasciati diciamo privi di un uso specifico un cantiere che aveva preso diversi anni e che noi abbiamo diciamo cambiato in corso d'opera destinando le sale all'esposizione la nostra collezione la grande donazione di Paolo Volponi e poi questo deposito decennale molto importante della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro che ha incrementato i beni esposti al museo permettendoci veramente di elaborare un racconto continuo molto approfondito che ci racconta tanto della storia dell'arte in questa regione proprio qui alle nostre spalle ci sono questi tre capolavori di Federico Zuccari che prima erano dispersi in sale diverse o non erano esposti quindi oggi noi sappiamo molto di più di che cosa è stata la pittura chi sono stati gli interpreti anche della storia dell'arte in questa regione mi sembra un grande raggiungimento che è stato molto lodato dalla stampa specialistica ma che sta anche incontrando grande successo e sono molto felice di vedere i visitatori che arrivano nelle sale scoprano artisti noti e meno noti ma che raccontano molto appunto della cultura in questa parte dell'Italia gli investigatori della squadra mobile della questura di macerate del commissariato di polizia di Civitanova Marche hanno identificato e denunciato a piede libero i tre italiani che la notte del 30 luglio scorso a Civitanova hanno partecipato alla rissa davanti al bar Oro Nero lungo il corso Umberto I due sono operai di origini calabresi dipendenti di un'azienda del maceratese uno dei quali con precedenti di polizia mentre il terzo è un marinaio civitanovese già noto anch'esso alle forze dell'ordine anche lui con precedenti di polizia tra poco più di un mese verrà inaugurato a Nascoli il ristrutturato campo sportivo nel quartiere di Monticelli vediamo sabato 17 settembre verrà inaugurato qui a Monticelli il nuovo campo Don Mauro Bartolini una volta denominato il velodromo perché oltre al campo sportivo c'era una pista di ciclismo campo che ha restato un po' di polemiche soprattutto nell'opposizione soprattutto per i tempi di riconsegna dove il comune aveva enunciato conclamato alcune date che poi non sono state rispettate per mille motivi l'obiettivo era comunque permettere all'inizio della nuova stagione di avere a tante società ascolane questo campo a disposizione campo che è omologato fino alla serie D dove ci giocheranno l'eccellenza e la promozione oltre alle altre categorie inferiori ma andiamo prima ad ascoltare quella è stata la reazione dell'opposizione andiamo a sentire Francesco Ameli caporuppo del PD di Ascoli Piceno il 17 settembre saremo felici di essere qui a Monticelli ad inaugurare il campo del Monticelli il campo del velodromo Bartolini dove intere generazioni hanno iniziato a coltivare la passione per il calcio e hanno salvato il campo ha svolto una funzione sociale straordinariamente importante in un quartiere difficile come questo che è quello dal quale vengo anche io tra l'altro però porterò anche un po' di cenere porterò un po' di cenere al sindaco e all'assessore Nicostallone perché penso debbano cospargersi il capo di cenere perché aspettare sei anni per la realizzazione di un campo che invece era necessario già subito dopo l'approvazione nel 2016 dei progetti sulle periferie penso che sia un errore che è l'ennesima dimostrazione di quanto questa amministrazione ami vivere sugli slogan e poi dopo nei fatti ci ritroviamo a dover aspettare a dover quasi elemosinare cose che invece sono dovute per la cittadinanza quindi un po' di amarezza nel far passare tutto come una notizia di giubbio il momento storico per la città la contentezza comunque per avere un campo che arriva però dopo troppo tempo e la necessità di dover ragionare su come organizzare i campi sportivi all'interno della città di Ascoli Piceno perché adesso c'è un sovraffollamento a Monterocco a Monterocco il campo si va via via sempre più degradando e c'è bisogno di intervenire lì come su altre strutture sportive della città consegnarlo ad aprire consegnarlo a maggio consegnarlo a settembre era l'importante avere un campo per la nuova stagione quella 22-23 delle squadre ascolane perché qui ci giocheranno come detto l'atletico Ascoli il Monticelli squadre primarie ovviamente eccezione fatta per l'Ascoli Calcio ma squadre che avranno bisogno di questo impianto sportivo allora non ha tanta voglia di polemizzare l'assessore allo sport Nico Stallone che invece si sente davvero orgoglioso di questo progetto che regala a un quartiere molto popoloso di Ascoli un nuovo impianto sportivo noi lo scorso anno avevamo già organizzato i calendari le partite in un determinato modo a metà anno non era possibile cambiare i calendari quindi al di là di insomma certe affermazioni l'importante era che il campionato potesse e questo campo potesse essere pronto per l'inizio del nuovo campionato e quello risposta a quella che è la critica che è arrivata dall'opposizione diciamo che più che una risposta è un dato di fatto voglio dire cioè se questo campo veniva in ogni caso messo a disposizione della città ad aprile noi non è che ad aprile potevamo andare a ricambiare tutti i gironi e quant'altro quindi voglio dire era una situazione che avevamo preventivato adesso lo abbiamo raggiunto secondo me abbiamo creato un'opera importantissima per la città che sarà per i prossimi 10-15 anni voglio dire non toccherà intervenirci anzi voglio dire è un'opera che può essere solo migliorata stiamo definendo anche degli abbellimenti per la tribuna oltre ripeto al calcetto abbiamo migliorato il discorso dell'illuminazione tutta a led abbiamo rifatto i spogliatoi che stanno sotto la tribuna sono totalmente nuovi quindi credo che insomma c'è stato del lavoro i gradoni della porta per la tifoseria per la possibilità di avere quindi le due tifoserie quindi che vogliamo di più? e con questo è davvero tutto per l'edizione odierna della telegiornale io vi ringrazio per averci scelto e vi auguro un buon fine settimana grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.